Buongiorno professore Alfonso, eccolo qui per la nostra seconda lezione di spagnolo. Ma mi chiedevo Alfonso, come si dice posta in spagnolo? La posta si dice buzon, buzon, buzon con la Z. Buston per noi, buton, buton. E il postino? Bustonino. Il postino non è il bustonino, il postino si chiama cartero. Cartero. Il correo è una parola italiana. No, è spagnolo. Il correo è una carta o un pacco? Allora, il cartero porta il correo nel... Nel buzon. Nel buzon. Questo è il nostro, no, no, nostro. Nel buzon. E la rana? Come si dice? Rana. Rana. Non è la rana. Fácil. Un metro di distanza, un metro di speranza. Un metro di distanza, un metro di speranza. Come si dice in spagnolo? Se dice un metro di distanza, un metro di speranza. Molto simile. Molto di distanza. Molto di sottotitoli.